nevica, guardate quelle povere palme sotto la neve buongiorno ragazzi o meglio buon pomeriggio, cioè bruttissimo pomeriggio in realtà perché è nevica io odio la neve perché è un gran disagio per tutti, se ti devi muovere, girare in macchina andando lontano o così e quindi va a fan bagno, anche se devo dire ha un certo fascino sempre esteticamente oggi è giovedì ed è il giorno in cui io e la Jane ci ricongiungiamo dopo qualche giorno senza stare insieme, senza vederci nel senso che io vado da lei a casa sua, quindi adesso metto via la macchina fotografica perché devo guidare e non si guida, stavo per dire, non si guida facendo altre cose nel frattempo, ciao eccomi qui ormai, il buio è sceso sulla città fa anche presto, non è mai arrivato il sole oggi vabbè però c'è un po' di luce almeno c'era e saluta quelli del vloggino, del vlogmassino e adesso usciamo perché è una delle poche occasioni che abbiamo per svagarci e uscire e fare Baldoria in giro per Bologna, e dove andiamo? nei uno dei miei posti preferiti, la bambina, i mercatini di Santa Lucia cioè i mercatini di Natale e io dovrò assorbirmi questa rottura di scatole e poi non so cosa faremo e cosa farò, sapete che d'ora in poi, tutte le volte che diremo faremo diranno anche cosa farò, comunque questa batteria è scarica quindi non so come faremo come potete notare siamo muniti solo, non siamo solo sci muniti siamo muniti di cellulare perché la videocamera è scarica cioè tutte le batterie, tre batterie su tre sono scariche questo è un complotto esatto, sono i poteri forti da domani ricominciano ad allungarsi le giornate siiii un minuto al giorno ti dico però mi ero data per sconfitta perché non l'avevo trovato e invece l'ho trovato che cosa? non l'hai detto? è un torrone però con lo zucchero e i pop corn e poi ho preso anche questi e degli zuccherini io li chiamo zuccherini però si chiamano ginevrini ginevrini? ginevrini comunque ciao mercatino di Santa Lucia dov'è che siamo? da Well Done Burgers si perché ci piace tanto e servono il Beyond Burger che è quello vegetale che ci piace tantissimo e abbiamo preso tante cose buone tipo le polenta sticks bucconcini di bufala e il Beyond Burger due diversi io con i porcini e salsa tartufo nero è un'altra cosa non rompere le scatole hai fame? adesso si quanto ha fame è molto bello da vedere questo è full pork queste sono mozzarelline di bufala fritte e queste stecchini di polenta sono arrivati i panini questa qui è la Jennifer mentre pulisce casa di prima mattina belle scarpe complimenti I will survive l'hai fermato ancora? si impari impari o indispari? buongiorno comunque ragazzuoli questo vlogmas rischia di essere un po' noioso perché fuori c'è un tempo veramente orribile non c'erano molte attività all'esterno allora mia mamma mi ha appena mandato questa foto qui da casa mia ha detto sono molto felice di non essere a casa ma essere a Bologna perché qui invece pioveva soltanto e non c'era neve manco l'avessi detto non ho guardato fuori dalla finestra per due minuti e guardate qual è la situazione le mie piantine sono muore no piantine entrate le mie piantine me le sono dimenticate scusa piantina scusa piantina allora ok va tutto bene come fai a metterla dentro? no devo metterci un telo sopra devo elaborare una strategia vuoi un po' di una mano? volevo fare quell'effetto con le lucine dietro di Natale sfocate e il soggetto davanti invece a fuoco ovviamente per metterci o uno di noi due o entrambi sto provando con un cuscino fortunatamente ha smesso di nevicare quindi quando la Jenny uscirà da lavoro non dovrà camminare come un eschimese al polo nord per arrivare fino a casa perciò adesso sono un po' più tranquillo perché ero molto preoccupato io ho passato tutto il pomeriggio a lavorare alla tesi perché ragazzi mi devo laureare ok google buongiorno in cali ok google buongiorno in greco calimera no che bravo io solo quei biscotti lì mi basteranno? la risposta è no che belle le lucine c'è tutta la luce gialla arancione che faccio adesso? adesso vi facciamo vedere che cosa guardiamo che lo sceglieremo tra un'ora e mezza circa che belle perché tu sei un'ora più abbiamo scelto qualcuno salvi natale che è un film dell'anno scorso in realtà originale di netflix buonanotte tanto che tra dieci minuti stai già dormendo buongiorno a tutti buongiorno siamo al fiattone perché se ci seguite su instagram vedete le foto che abbiamo appena fatto lo scoprirete questo vlog mass è finito oggi è domenica quindi vi auguriamo buona domenica buona domenica no non ha senso perché voi lo vedrete martedì questo vlog mass allora buona martedì ci vediamo la settimana prossima con l'ultimo vlog mass perché poi dopo è natale già però questo non vuol dire che entro la fine dell'anno non uscirà un altro video perché abbiamo un'idea molto carina che cercheremo di realizzare e di pubblicare prima del 31 dicembre speriamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao peace out e ne hai fatto male come senti